Eccoci qua! 3, 2, 1, bentornati, bentrovati e siamo al team blog, evviva! No, non è vero, siamo al team blog, siamo al porto, siamo al porto di Livorno, siamo appena arrivati, poi dopo magari mettiamo qualche immagine di sottofondo. E perché stiamo facendo un video? Stiamo facendo un video perché siamo arrivati prestissimo! Stiamo facendo un video perché siamo arrivati prestissimo, ma soprattutto stiamo facendo un video perché questo è il nostro ennesimo viaggio con Corsica-Sardinia-Feres. Come dimostrano gli italiani laggiù in fondo gialli. Sono lì, se ne vede uno. Ed è soprattutto il secondo viaggio in due mesi, praticamente, verso la Sardegna. Mai andato in Sardegna prima di quest'anno. Io sì, invece, e ho fatto un enne mila viaggi sempre con Corsica-Sardinia-Feres, ma l'obiettivo è spiegarvi come funziona di fatto un viaggio in traghetto verso la Sardegna con Corsica-Sardinia-Feres. Quindi, sigla! Sigla! Dicevamo, niente di particolarmente complicato, però ci sono alcune cose da tenere presenti. Siamo segnati qualcosa. Ok, prima cosa, numero uno! Numero uno! Non ci ricordiamo più, no? Trovare l'imbarco. Esatto. Il porto dove partono i traghetti è sempre abbastanza grande, quindi, insomma, trovare la strada potrebbe non essere così facile, soprattutto se arrivate l'ultimo minuto, perché le navi non aspettano. Non stavolta, infatti, siamo particolarmente l'anticipo. Comunque, va bene. Quindi, guardate i cartelli, seguite le indicazioni e prima o poi da qualche parte arriverete e lo troverete, insomma, dai, non è difficile. La seconda cosa, invece, da tenere presente e da ricordarsi sono i documenti. Perché? Non dimenticatevi la cartelletta a casa, perché ve li chiedono, eh, quando arrivate al porto, prima di entrare, vi chiedono i documenti e quindi dovete farveli vedere. E il ticket? Ma il ticket potete presentare quello online. Esatto. Terza cosa, se viaggiate in automobile e magari avete un po' paura, insomma, di entrare, insomma, all'interno della nave, parcheggio, eccetera, così, le manovre, non avete tanto le misure, insomma, non vi sentite tanti sicuri, non abbiate paura. Allora, fidatevi degli inservimenti, sono bravissimi, fanno questo tutti i giorni. I movimentatori, credo. Esatto, se loro vi dicono gira il volante a destra, tu gira il volante a destra, anche se ti sembra una stupidaggia, tu fallo e va bene. Obedisci, come si dice in gioco. Quarta cosa molto importante, faccio verso l'alto perché è... Quando prenotate il bagaglio, l'altezza della macchina, quando prenotate dovete indicare qual è il vostro modello e quindi dovete anche specificare se la vostra macchina ha un portapacchi, per esempio. Non dimenticatevi che magari prenotate lo spazio per la macchina normale, poi ci mette il portapacchi, dovete segnalarlo, altrimenti non vi fanno entrare. La bagagliera va prenotata in anticipo, oppure se ve la dimenticate, sono chiamate prima, non arrivate al porto con la bagagliera che poi vi fanno storie. Quinto punto, se avete bisogno di internet sulla barca, c'è la possibilità di fare il wifi, ma va comprato a parte. Attenzione perché se navigate vicino alla costa con me, potreste incappare i costi di roaming, quindi se non fate questa costa... Che costa? Quella... No, 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 no. Sulla nave, se per esempio hai team, se navighi vicino alla costa, magari prima prendi il segnale della costa e quindi non paghi, ma poi se vai sulla nave ti attacchi al roaming della nave. Quindi spegnete i dati, quindi spegnete i dati, spegnete i dati, esatto, altrimenti fate l'abbonamento per il wifi, se volete stavigare sui social, salite i commenti. Ok, vabbè, però di giorno è in effetti. Ok, questa è la paranoia da blogger, ma va bene. È vero. Ultimo punto. Il passaggio ponte, cabina, poltrona, dipende, questo dipende molto. Questo lo dico io. Esatto, bene. Io ho sempre fatto passaggio ponte. An aperto. No, non è vero, cioè diciamo che me la sono sempre un po' così giocata. Da che in realtà viaggiamo con corsi e castelli di affaires, col nano, cabina. Perché cabina? Ma che è una figata. Soprattutto perché per esperienza, mettiamola così, se avete un bambino, dormire buttati per terra e la nave magari balla un po', non è il massimo. Quindi valutate la cabina se fate il notturno, se fate il diurno. In realtà invece su queste navi c'è la sala giochi, sono un sacco di cose che possono intrattenere il bambino. Quindi di fatto la cabina è superflua. Però di notte con i bambini, insomma, vabbè, io da mamma faccio una mamma italiana. Ma anche per il guidatore, dai. Magari se arrivate come noi da Milano, arrivate qui e siete un po' anziani come sottoscritto, magari un po' un ripusino di qualche ora. Quindi in tutto questo abbiamo finito. Adesso ci imbarchiamo. Sì. E mi raccomando, insomma, se vi è piaciuto questo video, lasciateci un like. Se avete altre domande, lasciateci qualcosa nei commenti, cercheremo di rispondervi e magari avete anche qualche altro suggerimento. E soprattutto? Piace la campanella! Piace la campanella? La campanella, la campanella e iscrivetevi al canale. Ciao! 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 Ci guardano.